La frana di Montescaglioso del 2013 e il dissesto idrogeologico nella sua interezza sono stati al centro di un tavolo tecnico a potenza nella sala verrastro della presidenza della giunta regionale. Alla riunione hanno partecipato l'intero consiglio comunale di Montescaglioso, il comitato cittadino Cottam, che si sono confrontati con il presidente della regione Marcello Pittella e l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Nicola Beneditto. Presenti anche la dirigente generale del dipartimento infrastrutture Liliana Santoro e il dirigente dell'ufficio di protezione civile Donato Vigiano nella sua specifica veste di commissario delegato alla mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare al centro della discussione la delibera regionale del 6 novembre scorso che definisce le priorità di finanziamento del piano rendis per il dissesto idrogeologico e i progetti esecutivi pubblicati sull'albo pretorio comunale per il primo intervento di ripristino del reticolo idrografico dell'aria interessata dal movimento franoso del 3 dicembre del 2013. La regione ha sottolineato l'assessore Benedetto a cuore tutti i 131 paesi della Basilicata alla stessa maniera spiegando i criteri adottati dal dipartimento con riferimento alla delibera che detta le priorità del piano rendis. Bisogna far diventare esecutivi progetti e poi guardare al posizionamento in graduatoria che può essere superato con lo scorrimento ha detto l'assessore invitando ognuno a fare la propria parte nella massima collaborazione e nel rispetto delle norme.